Si è svolto a Gela domenica scorsa in un palazzetto gremito il settimo congresso regionale della Divina Misericordia che raduna annualmente i movimenti, gruppi di preghiera e singoli fedeli della Sicilia e oltre che si ispirano al messaggio biblico della misericordia promosso da San Giovanni Paolo II e presente nel Magistero di Papa Francesco. La giornata al Palacossiga di Gela è stata molto intensa, si è registrato una grande affluenza di fedeli giunti da diverse regioni del sud Italia. L'evento ha avuto il suo esordio con la lettura del messaggio del Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana che ha esortato i partecipanti ad essere espressione di una chiesa in uscita capace di abitare il quotidiano delle persone grazie ad uno stile povero e solidale di ridare speranza per formare una chiesa pronta a fare della vita ordinaria il luogo dell'incontro e dell'esperienza della misericordia di Dio. Il convegno sul tema dell'anno giubilare dedicato appunto alla misericordia, siate misericordiosi come il padre è stato patrocinato dal Pontificio Consiglio per i laici e dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione organizzato dal Comitato Mondiale dei Congressi della Misericordia, dall'Accademia Internazionale della Misericordia, dalla Diocesi di Piazza Armerina, dal Movimento Fraternità Apostolica della Misericordia e dalla Piccola Casa della Misericordia che si occupa delle famiglie disagiate del territorio nisseno. La celebrazione eucaristica è stata preseduta dal Cardinale Stanislao Rilko, Presidente del Pontificio Consiglio per i laici, stretto collaboratore di Papa Francesco nella conduzione di uno dei più importanti di Casteri Vaticani. Il Cardinale Polacco ha portato i saluti personali di Papa Francesco che ha assicurato la sua benedizione incoraggiando i fedeli a proseguire con entusiasmo sulla via della misericordia tracciata a Gela attraverso la fede e la carità. Il Vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha tenuto una relazione sulle opere di misericordia.